Il pianoforte suona sui San Pietrini, mentre a pochi metri un tram passa sferragliando. All'ombra della scala è andato in scena il concerto per chiedere la ripartenza del settore culturale, chiuso di fatto per l'emergenza Covid, con i lavoratori dello spettacolo messi a dura prova. Ad organizzarlo il direttore d'orchestra Alberto Veronesi, che per l'occasione ha suonato al pianoforte l'ultima aria del primo atto della Bohème di Puccini, accompagnato dalle voci del tenore Vitali Kovalchuk e della soprano Marina Acchebia, simbolicamente legati da delle corde a rappresentare la condizione di strangolamento del settore in un paese in cui, secondo il maestro, imperversa la povertà culturale. C'è un paese dove, secondo i dati Istat, il 90% degli italiani non è mai andato a un concerto, il 60% non ha mai letto un libro, negli ultimi anni almeno. Abbiamo 100.000 precari della cultura e quindi è necessario un reddito di continuità per questi precari, ma attenzione non un reddito di cittadinanza, un reddito per lavorare, per portare spettacoli nelle periferie, per fare vivere i quartieri. Un appello a riaprire i luoghi della cultura chiusi dal Covid, ma anche un invito a ripensare un settore in cui il precariato è ancora troppo forte. Non a caso la scelta è caduta sulla Bohème di Puccini, in cui un poeta e una sarta nella Parigi del 1830 si esprimono il loro reciproco amore, raccontando al contempo la propria estrema povertà. Quella della Bohème è la Parigi del 1830, dal 1830 di fatto non è cambiato nulla rispetto alla situazione degli artisti e dei portatori della cultura.